La collina nord di Chieti resta sorvegliata speciale dopo l'ultima ordinanza di sgombero firmata dal sindaco Diego Ferrara che ha disposto l'interdizione all'uso del condominio Umberto in via Fontevecchia. Una scelta obbligata, dettata dalle condizioni dello stabile, ubicato in una delle zone maggiormente interessate dal fenomeno del dissesto idrogeologico che già in passato aveva imposto lo sgombero di altri edifici in città. Nella palazzina di via Fontevecchia, costruita negli anni 70, vivevano otto famiglie ma nell'ultimo periodo erano rimasti abitati soltanto due appartamenti. Propedeutica l'ordinanza di sgombero è stata una PEC inviata il 13 ottobre scorso al comune dai condomini rimasti, preoccupati per l'aggravarsi delle crepe sui muri dell'edificio, come spiegato dal sindaco Diego Ferrara. Dalla proclamazione dello stato di emergenza nazionale con deliberazione della presidenza del Consiglio del 28 agosto del 2023, la zona che noi definiamo collina nord, comprendente il triangolo via Domminzoni, via Fontevecchia, via Legranzasso, via Arenazze, è stata ancor più attenzionata rispetto ai tempi precedenti. Conseguentemente qualunque anomalia in più vediamo, mandiamo tutti gli atti alla protezione civile. Adesso cosa accadrà a queste otto famiglie? Dove andranno? Dove alloggeranno? Per quanto riguarda, è un termine brutto, la delocalizzazione di queste famiglie sarà censita nell'ambito dell'autonoma abitazione. Stiamo per emettere un avviso con dei moduli da riempire da queste persone che sono state delocalizzate in maniera tale da avere i relativi rimborsi da parte della regione della protezione civile. Molto probabilmente tra oggi e domani saranno pubblicati sulla pagina Facebook del Comune e saranno inseriti nell'albo pretorio. E per l'edificio in questione invece che cosa si prospetta? Con ogni probabilità insieme con gli altri pericolanti si dovrà abbattere, però in questo momento è prematuro parlarne perché l'ufficio tecnico dovrà vagliare bene insieme con la protezione civile e con l'università, la facoltà di geologia, con le quali abbiamo redatto una convenzione per il monitoraggio ulteriore della collina. La decisione sarà sempre condivisa. Già dai primi sopralluoghi che abbiamo fatto all'inizio dell'anno abbiamo visto un peggioramento continuo. Questa zona è attentamente monitorata dal Comune, dall'Università e dalla protezione civile. Poiché la situazione è in progress purtroppo, credo che dovrò fare altre ordinanze nell'immediato futuro.